Diritto ecclesiastico video lezione numero 11 aggiornamento al 30 maggio 2021. In questa brevissima video lezione tratterò i seguenti argomenti. L'accesso delle donne ai ministeri e la lettera apostolica motu proprio del 30 aprile 2021. Con riferimento alle persone fisiche nel diritto ecclesiastico e più specificatamente alle donne il 10 gennaio 2021 Papa Francesco con una decisione motu proprio ha ufficializzato la prassi ormai diffusa di apertura dei ministeri del lettorato e dell'accolitato anche alle donne. In altre parole le donne con tale decisione possono leggere la Bibbia durante le celebrazioni liturgiche o svolgere un servizio all'altare in maniera ufficiale. A seguito della decisione del Papa quindi il primo paragrafo del canone 230 del codice di diritto canonico così statuisce. I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla conferenza episcopale possono essere assunti stabilmente mediante il rito liturgico stabilito ai ministeri di lettori e di accoliti. Nella lettera motu proprio Papa Francesco inoltre ha spiegato che i ministeri laicali sono fondati sul sacramento del battesimo e pertanto possono essere affidati a tutti i fedeli di sesso maschile o femminile che risultino idonei secondo le disposizioni del canone 230 del codice di diritto canonico così come modificato da Papa Francesco. Un cenno soltanto della lettera apostolica motu proprio nel 30 aprile 2020 appunto con tale lettera apostolica Papa Francesco ha stabilito che nelle cause che riguardino i cardinali e i vescovi il tribunale giudica previo assenso del sommo pontefice.